Sono qui, sono tornate. Già dall'anno scorso significavano festival. Paola e Chiara a Radio Bruno. Eccoci, siamo felicemente tornate a Radio Bruno. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. Siamo contentissimi, siete le protagoniste assolute di Prima Festival. E Amadeus ha avuto questa idea così balzana, inaspettata, totalmente. Che noi abbiamo accolto subito, ovviamente non ce lo siamo fatto ripetere troppe volte. Sì, sì, anche perché negli anni in realtà era un piccolo sogno quello di poter fare qualcosa a livello di conduzione a Sanremo. Quindi abbiamo realizzato un sogno, un altro tra i tanti che siamo riusciti a realizzare. Insomma, siamo fortunate. Siete fortunate, brave, siete dell'icone di stile. Grazie al team di lavoro che abbiamo. Troppo buona. Grazie. No, noi dobbiamo ringraziare soprattutto il pubblico che ci ha tenuto la mano in tutti questi anni, ci ha sorretto, ci ha supportato anche negli anni di assenza l'una dall'altra e non ha mai smesso di credere che un giorno avremmo potuto tornare. Quindi noi ringraziamo fondamentalmente loro che sono veramente il nostro faro nel buio. Quindi veramente hanno tifato per questa riunione. L'anno scorso con furore veramente quel palco l'avete calcato, avete ballato, avete realizzato dei quadri musicali incredibili. E quest'anno la vostra nuova canzone, il nuovo singolo, è richiestissima a Radio Bruno e non soltanto in tutte le radio italiane perché proprio piace veramente tanto per la musica, l'attitude, l'ambiente ma anche il messaggio. È una canzone per noi molto importante questa. Dopo un messaggio così prorompente come quello di furore, coinvolgente, dove volevamo proprio trasmettere questa botta di energia al pubblico, questa volta abbiamo voluto lanciare un messaggio di speranza, di solidarietà, di unione per questo mondo che sembra essere un po' complesso, un mondo in cui viviamo oggi. A volte sembra quasi di vivere in una serie tv distopica e questo mondo un pochino a volte spaventa, a volte ci terrorizza anche. E noi abbiamo voluto esprimere con questa canzone l'importanza del tenersi per mano, dell'aiutarsi, dell'essere solidali l'uno con l'altro, ma soprattutto dire alle persone che nessuno di noi è solo veramente, se non vuole essere da solo. E chiaramente i momenti di solitudine che uno cerca per stare con se stessi, per riflettere, sono sacrosanti ed è giusto che ci siano, però parliamo di quella solitudine disperata dove uno si ritrova nell'isolamento. ecco c'è il modo di uscire da questo isolamento che è quello di cercare aiuto nell'altro o molto vicino a noi o anche lontano. A volte l'aiuto può arrivare anche... Una mano tesa la si trova sempre e basta avere il coraggio di chiedere. A volte le persone per timore o per paura appunto non chiede aiuto, invece a volte basta dire mi dai una mano e a volte il miracolo accade. Esattamente, a volte si ha paura delle proprie fragilità e non le si vogliono ammettere anche per dignità umana a volte, però dobbiamo abbattere un po' questi muri. Questa canzone dice proprio questo. Avete proprio ragione e tra l'altro nelle canzoni in gara ci sono tantissimi testi e tantissime canzoni che riguardano proprio questa fragilità, questo essere solo, questo bisogno di ritornare alla realtà. Voi avete sicuramente tantissimi amici o persone con le quali avete collaborato in gara. So che non potete dire per chi ti fate, lo so, lo so già. No, anche perché ricopriamo un ruolo istituzionale. No, vabbè, però... Avete dato dei consigli a qualcuno che vi ha chiesto? No, 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 non abbiamo dato consigli perché fondamentalmente pensiamo che gli artisti debbano seguire un istinto che è la cosa principale che guida gli artisti sul palcoscenico e quando scrivono canzoni e quando si esprimono attraverso la loro arte. Quindi essere se stessi credo che sia la cosa migliore. Ma poi ieri abbiamo commentato il green carpet, abbiamo visto che i giovani di oggi sinceramente sanno il fatto loro molto molto bene. Quindi c'era una bella grinta, insomma. Forse quello che mi verrebbe da dire è di fregarsene un pochino dei commenti sui social, eccetera, che quelli tanto ci saranno sempre, andare dritti per la propria strada. E con questo bel consiglio salutiamo Paola e Chiara, grazie mille. Grazie a voi, grazie agli amici di Radio Bruno anche per il supporto su questa nuova canzone Solo Mai. Ciao.